Ciao a tutti. Per prima cosa faccio gli auguri di Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Sarà una Pasqua molto domestica, con il dolore di non poterla festeggiare con amici e parenti. Un pensiero doveroso va a tutti coloro che sono in ospedale. Forza e coraggio. Ma andiamo avanti. I media di regime ci hanno raccontato le meraviglie del governo che ha messo in campo 400 miliardi per le imprese massacrate dal coronavirus. Al di là dei proclami, quello che gli imprenditori vogliono sapere è quando arriveranno i soldi. Con loro anche i dipendenti che vorrebbero ricevere lo stipendio a fine mese. Ma per ora tutto tace. O meglio, abbiamo sentito dei 25 mila euro che il governo concede a tutti senza vincoli di sorta. Ma, avevano detto così anche per i mutui. Ma non è vero. Il blocco dei pagamenti per i mutui è solo per quelli prima a casa, con importi sotto i 200 mila, ma solo per disoccupati o con un'isee di un certo tipo. E i finanziamenti alle aziende oltre 25 mila euro? Pare che la gestione dei soldi e del loro rilascio verrà affidata alle banche. E qui sorge il problema. Cosa chiederanno mai gli istituti per tutelarsi? Ma, se fanno come al solito, la vedo dura. Negli Stati Uniti, invece, non funziona così. Alle aziende è stato inviato un modulo che, una volta firmato, consentirà di accedere immediatamente a un fondo coperto dallo Stato. Ovvero, soldi sul conto corrente nel giro di una settimana. Di più, eventuali prestiti andranno pagati con una dilazione a 30 anni. In Svizzera, invece, lo Stato concede prestiti sino al 10% del fatturato. Il tasso è 0 e il rimborso è 5 anni. Un'azienda ha fatto richiesta venerdì. I soldi sono arrivati sul conto corrente lunedì mattina. La differenza con l'Italia è abissale. Alimentare è vivo e lotta insieme a noi.